Campobello di Mazzara, arrestato trentenne catanese in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare. Il governo musumeci approva la riforma dei forestali. Salemi, varate le agevolazioni Tari e Tosap, sconti per chi adotta uno spazio verde o un cane. Flixbus continua ad ampliare la rete in Sicilia, nuovi collegamenti con le coste e l'entroterra. Nel Trapanese sono due comuni coinvolti, Mazzara del Vallo e Castelvetrano. Bentornati cari amici sul Tg8 Informazione Tele 8, canale 190. Apriamo con una notizia di cronaca. A Campobello di Mazzara è stato arrestato un trentenne catanese in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara hanno arrestato un uomo catanese di 30 anni in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Catania, seconda sezione penale. Il provvedimento è scaturito dalla apposita richiesta che i carabinieri della stazione hanno presentato all'autorità giudiziaria competente, dopo aver accertato che l'uomo aveva compiuto una violazione della misura cautelare cui era in atto sottoposto. In particolare, l'uomo, già ristretto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica del comune di Campobello di Mazzara per pregressi reati in materia di sostanze stupefacenti ha usufruito di un permesso regolarmente autorizzato per recarsi nella propria città. Tuttavia, nel fare rientro, il trentenne ha deciso di concedersi una sosta di alcune ore presso un albergo di Palermo in modo arbitrario e senza un giustificato motivo. Gli accertamenti incrociati svolti sulla base delle schede alloggiative hanno permesso di ricostruire il movimento illegittimo dell'uomo che è stato prontamente segnalato a chi di competenza. L'autorità giudiziaria, condividendo l'esito dell'attività investigativa eseguita dai carabinieri, ha emesso l'ordinanza che ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Rissa a colpi di bastoni e coltellate a Menfi, 35enne, è stato arrestato a Petrosino. I carabinieri di Petrosino hanno infatti posto agli arresti domiciliari su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo un 35enne di origine romene perché condannato a termine del processo in cui era imputato per aver partecipato ad una rissa tra connazionali in cui sono stati utilizzati anche bastoni e coltelli, avvenuta a Menfi nel 2012. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato dichiarato in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione dove dovrà scontare un anno e sei mesi per i reati di lesioni personali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Passiamo invece alla sanità. Continua la campagna vaccinale e arrivano nuove scorte di dosi in Sicilia. Sono 30.800 i vaccini anti-Covid in consegna da domani nei diversi centri siciliani. Le dosi in arrivo sull'isola saranno 19.900 del tipo Moderna e 10.900 del tipo Johnson & Johnson. La suddivisione prevista verso i centri vaccinali e le farmacie ospedaliere è così composta. 11.900 verranno consegnati a Palermo, 1.600 ad Enna, 4.100 ad Erice, 3.700 a Siracusa, 3.100 a Ragusa, 4.000 ad Agrigento e 2.400 a Caltanissetta. Passiamo invece alla regione amministrativa in Sicilia. Il 10 ottobre si vota per scegliere il sindaco di 43 comuni siciliani, fissate in autunno dal governo regionale su proposta dell'assessorato alle autonomie locali le date per le elezioni dei comuni. Si voterà appunto il 10 ottobre con eventuale ballottaggio il 24 ottobre, mentre in provincia di Trapani si voterà ad Alcamo e Calatafimi-Segesta. In altri tre comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose, Torretta e Mezzoiuso nel Palermitano e Misterbianco nel Catanese, si voterà invece il 24 ottobre con eventuale ballottaggio il 7 novembre. E il governo Musumeci invece approva la riforma dei forestali. Approvato dal governo Musumeci nella seduta di ieri pomeriggio il disegno di legge di riforma del comparto forestale. La proposta mira a ridurre da 3 a 2 le fasce dei lavoratori stagionali, ad aumentare il numero delle giornate lavorative e a valorizzare e riordinare le attività e le competenze. La riforma, si legge nella nota diffusa alla stampa, non comporta aumento di spesa a carico del bilancio della Regione ed è frutto di un preventivo confronto con le parti sociali. È una delle riforme attese da anni e abbiamo mantenuto l'impegno programmatico assunto sin dall'inizio, ha commentato il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. La nostra proposta mira ad un impiego più razionale ed efficace dei lavoratori forestali, senza demagogia e senza vendere illusioni. Adesso la parola passa dal governo al Parlamento. Dal canto suo, l'assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca, Tony Scilla, ha evidenziato che il disegno di legge troverà copertura finanziaria in rapporto all'impegno dell'anno 2021. L'obiettivo finale sarà quello di garantire ai lavoratori forestali 180 giornate lavorative. Adesso inizierà l'iter parlamentare e sono sicuro che insieme a tutte le forze politiche presenti in Ars, riusciremo a produrre una legge in grado di riqualificare tutto il comparto della forestazione. Parliamo di scuole. È stato finalmente adottato il decreto attuativo che permette di sbloccare i 40 milioni di euro destinati alla costruzione di scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia, lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Sant'Angelo. Uno stanziamento che abbiamo fortemente voluto inserire in legge di bilancio per venire incontro ai piccoli comuni e contrastare lo spopolamento di quei territori. Nella provincia di Trapani, ad esempio, potranno partecipare al bando i comuni di Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Favignana, Gibellina, Buseto Palizzolo, Vita, Sala Paruta e Poggio Reale. Passiamo invece all'archeologia, ritrovati i reperti dell'età del bronzo a Mozia. Il ritrovamento di eccezionali reperti rinvenuto sull'isola di Mozia, infatti, è stato realizzato durante la campagna di scavi condotta dall'Università di Palermo, che si è appena conclusa, ed apre nuovi scenari sulla datazione delle presenze di forme di civiltà precedentemente all'insediamento fenicio. Lo afferma una nota dell'assessorato regionale ai beni culturali. Durante uno dei sondaggi praticati dall'equipe guidata dal professore Aurelio, è stato scoperto un contesto archeologico che risalirebbe all'antica età del bronzo, ovvero 1600 a.C. circa. Un ampio cimitero a cremazione utilizzato dai primi coloni fenici sull'isola di Mozia. Gli schiavi sono stati affiancati da un lavoro condotto da Jason Herman del Penn Museum di Filadelfia. E invece a Salemi sono state varate le agevolazioni Tari e Tosap, sconti anche per chi adotta uno spazio verde o un cane. Il servizio. Riduzione della tassa sui rifiuti e azzeramento totale della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda le aziende a Salemi. Lo ha deciso l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti, con una delibera di giunta che ha fissato i criteri per le agevolazioni Tari e Tosap, rese possibili grazie al riparto delle risorse ministeriali derivanti dal cosiddetto Fondone Nazionale per l'Emergenza Covid. La giunta Venuti ha deciso di utilizzare i fondi per sostenere le imprese che hanno subito una chiusura totale o parziale della propria attività a causa delle norme per il contenimento del Covid-19. La delibera, messa a punto dall'assessorato al bilancio guidato da Leonardo Bascone, fissa nel 31 ottobre di quest'anno il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione che attesti la sospensione o la limitazione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, documento necessario per ottenere le agevolazioni su Tari e Tosap. Per quanto riguarda la Tari delle utenze domestiche, inoltre, è allo studio da parte dell'amministrazione un sistema di sgravi grazie alla possibilità di utilizzo delle risorse statali provenienti dal Fondo di Solidarietà Alimentare 2021. Sul fronte Tari, inoltre, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il piano economico-finanziario del 2021, mentre per quanto riguarda il 2020, l'amministrazione Venuti ha confermato le agevolazioni per le famiglie a basso reddito, previste esenzioni fino al 100% in base all'ISE. Confermate per il 2020 anche le agevolazioni Tari per le famiglie con portatori di handicap e basso reddito. Il bando, varato dall'amministrazione, infine, prevede una riduzione del 20% per chi si è preso cura di uno spazio verde pubblico o per chi ha adottato un cane attraverso il rifugio sanitario di proprietà del Comune. In questo caso, la domanda per le agevolazioni dovrà essere presentata entro il 31 luglio. Il bando e i moduli per la presentazione dell'istanza sono scaricabili dal sito del Comune di Salemi. Anche a Mazzara del Vallo c'è stato il via libera del Consiglio Comunale alle proposte di riduzione della Tari, con 14 voti favorevoli su 14 presenti. Il Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo, riunitosi ieri sera in seduta urgente, ha approvato i due punti inseriti all'ordine del giorno. Il regolamento per la riduzione della Tari dovuta agli operatori economici per l'anno 2021 e lo stesso regolamento per la riduzione della Tari dovuta invece alle utenze domestiche, sempre per l'anno 2021. Parliamo di mobilità, invece, Flixbus continua ad ampliare la rete in Sicilia. Nuovi collegamenti con le coste e con l'entroterra. Nel Traparese sono due i comuni coinvolti, Mazzara del Vallo e Castelvetrano. A poche settimane dal primo potenziamento delle tratte con l'isola, Flixbus torna ad ampliare i collegamenti con la Sicilia per offrire a chi parte dalla regione un servizio di mobilità ancora più capillare e supportare al tempo stesso la ripresa delle attività turistiche sul territorio, offrendosi come soluzione preferenziale per i visitatori in arrivo dall'Italia continentale. Il rafforzamento della rete degli autobus verdi coinvolge sia le grandi città siciliane che potranno giovare di nuovi collegamenti con molte destinazioni del centro e nord Italia e nuove connessioni con le altre aree del mezzogiorno, sia le piccole località costiere e dell'entroterra che potranno beneficiare per l'intero periodo estivo di un incremento dei flussi turistici dalle altre regioni. Anche la provincia di Trapani trarrà vantaggio dal consolidamento della rete Flixbus in corso sul territorio siciliano con l'operatività di nuovi collegamenti fra Mazzara del Vallo e Castelvetrano e Villa San Giovanni e Roma. Le due città si offriranno così anche come punti strategici di arrivo nel network degli autobus verdi per chi desidera andare alla scoperta della Sicilia occidentale. Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, Flixbus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza. Tra le misure implementate si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l'obbligo di mascherina per l'intera durata del viaggio è nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touchless di biglietti e documenti al momento del check-in. Parliamo di randaggismo invece. L'ISPRA di Mazzara del Vallo lamenta danni ambientali per le zone umide del Mazzarese. I danneggiamenti provocati alla fauna selvatica più o meno protetta da parte dei cani lasciati vagare per le zone umide del Mazzarese è la problematica che pone ISPRA al centro dell'attenzione. I cani liberi di vagare all'interno di aree protette sono in grado di arrecare danni ingenti alla vifauna. Gli impatti maggiori si determinano a carico delle specie ornitiche che nidificano al suolo e in contesti coloniali dove i nidi si trovano a breve distanza l'uno dall'altro. Per le loro ridotte dimensioni e la prossimità alle aree urbane, le zone umide presenti nel comprensorio di Mazzara del Vallo risultano facilmente accessibili ai cani e tale circostanza rappresenta una grave minaccia per molti uccelli acquatici. Stante la situazione sopra descritta che evidentemente perdura da tempo, lo scrivente istituto è del parere che le amministrazioni competenti dovrebbero evitare di autorizzare la creazione di aree destinata ad attrarre cani randaggi nelle vicinanze dei luoghi protetti. Al contrario si dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per impedire l'accesso a tali siti da parte di animali domestici siano essi con padrone o con randaggi. E a questa problematica risponde l'EMPA di Mazzara del Vallo l'ente appunto di protezione animale che fa presente che i cani presenti nella riserva non rappresentano un problema. L'EMPA di Mazzara infatti tiene a precisare che si tratta innanzitutto di cani riammessi sul territorio dall'amministrazione comunale dopo essere stati regolarmente microcippati, vaccinati, sterilizzati e valutati per il loro inserimento nel territorio. L'associazione Pro Capo Feto inoltre non ha mai prodotto prove tangibili o documentate sui danni provocati dai cani alla fauna selvatica senza neanche considerare la massiccia presenza di cacciatori di frodo, di volpi o di altri mammiferi selvatici. E questa mattina invece passando alla cultura e allo spettacolo è stato presentato il cartellone degli eventi estivi dell'amministrazione di Petrosino. Ma io direi che questo cartellone artistico quest'anno ha maggiore significato perché non è soltanto agliatare l'estate ma anche in qualche modo bilanciare un periodo davvero brutto che abbiamo passato con la pandemia per cui braccia aperte innanzitutto ai giovani con cui abbiamo collaborato nelle scelte anche degli eventi che abbiamo fatto dei concerti, degli artisti. A loro ci siamo veramente concentrati perché sono stati molto bravi hanno fatto un sacrificio enorme e stare rinchiusi a casa per un ragazzo o una ragazza degli adolescenti insomma è davvero un trauma. Quindi allora abbiamo voluto insomma dedicare parecchia attenzione. E poi anche all'attività sia di ristorazione e tutte le attività turistiche legate alberghiere, case vacanze e così via perché anche loro hanno avuto un momento particolarmente difficile. Quindi quest'estate è un modo per dire a loro che la ripartenza e la speranza devono essere i nostri fari. Che risposta si aspetta dalla cittadinanza petrosilena e non solo? Sempre bella, come è stato sempre ed è sempre stato un crescendo. Petrosino negli ultimi anni ha avuto davvero una crescita delle presenze incredibili. Tante attività che non c'erano prima e non ci saremmo mai sognati sono sorte. Io ricordo a tutti che qualche anno fa quando io comunque sono diventato sindaco in questo litorale non c'era nessun locale e oggi invece è tutt'altra realtà. Petrosino riparte di nuovo con la cultura, la musica, il teatro e l'artigianato. Ringraziamo tutte le associazioni, i privati che hanno contribuito a rendere questo cartellone estivo ricco di eventi di partecipazione della cittadinanza e del mondo dell'associazionismo. E poi gli eventi di punta che sono rappresentati dai concerti da Luca Firt a Annalisa al concerto dei Decolors, Noemi fino ad arrivare al concerto di Renga. Il mese di agosto sarà davvero un mese importante per il comune di Petrosino perché pensiamo che tutte queste manifestazioni e questi eventi possano avere davvero una buona ricaduta economica sul territorio. Continuando con la cultura, sarà inaugurata l'11 luglio 2021 alle ore 18.30 presso la Galleria d'Arte contemporanea Santo Vassallo all'interno del complesso monumentale Filippo Corridoni di Mazzara la mostra Morfologie per sguardi e tracce. L'esposizione delle opere interessa l'operato artistico di quattro pittori Fabio Accardo Palumbo, Paolo Asaro Giacomo Cuttone e Giuseppe Tumbarello. La mostra, curata dal critico d'arte Aldo Gerbino e presentata dall'Istituto Euroarabo che ha il patrocino del comune di Mazzara del Vallo ed è inserita all'interno del programma dell'estate mazzarese 2021 in zona blu si proterrà fino all'8 agosto. All'iniziativa si accompagna un catalogo che riporta sia diverse riproduzioni dei quadri degli artisti sia altri interventi testuali di riferimento. In stralcio qualche passo del testo progettuale della scol mazzarese dell'intervento di Aldo Gerbino e di Antonio Contigliano. E invece continuando con lo spettacolo con l'opera dei pupi Morbello distrugge l'incanto della maga Aurelia andato in scena ieri con la partecipazione appassionata di bambini ed adulti nel Teatro di Paglia allestito nella suggestiva location del Giardino degli Emiri a Miragliano ha preso il via la quarta edizione del Festival del Teatro di Paglia inaugurando il cartellone estivo dell'estate mazzarese. Siamo alla quarta edizione e quest'anno per la prima volta siamo al parco di Miragliano al parco fluviale naturalissimo di Miragliano Giardino del Nemiro e questa è la grande novità abbiamo fatto subito l'occasione per poter rilanciare questo sito che ha delle origini antiche consideriamo che la gente veniva a Miragliano per lunghe passeggiate per incontrarsi, per condividere ed ecco allora che il Teatro di Paglia può essere l'occasione per rilanciare questo sito e soprattutto per rilanciare anche la possibilità di connettere bambini e adulti con la natura oggi infatti più che mai siamo spesso relegati in spazi molto ristretti e artificiali e quindi perché no poter vivere in pieno il parco di Miragliano sia per il contatto con la natura ma anche come progetto culturale da sviluppare noi siamo molto contenti oggi abbiamo fatto tanti sacrifici insieme all'associazione di volontariato ai dipendenti del comune e abbiamo finalmente riportato a vita al parco di Miragliano con il quarto festival del Teatro di Paglia Ecco, questo primo appuntamento l'Opera dei Pupi la compagnia della famiglia Mancuso di Palermo un appuntamento particolare con i valori la tradizione dell'Opera dei Pupi che è davvero qualcosa che rientra nel DNA della Sicilia pensate un po' che oggi la famiglia Mancuso inaugura a Mazzara del Vallo il teatro itinerante per la prima volta dopo tanti anni hanno questo teatro itinerante quindi questo furgone attrezzato che girerà per le città della Sicilia e non solo per portare avanti e per far conoscere la tradizione non perdere la tradizione dei pupi siciliani e quindi oggi è una giornata veramente memorabile Miragliano apre le porte alla cittadinanza il teatro di Paia finalmente arriva anche in un posto in un contesto naturale e la famiglia Mancuso per la prima volta arriva a Mazzara con la sua nuova diciamo chiamiamolo così con la sua nuova modalità di svolgere il teatro quindi veramente una giornata importante e continuano invece gli appuntamenti dell'estate in blu di Mazzara prende il via questa sera la rassegna letteraria e inchiostro datore alle ore 19 presso il cortile esterno del complesso Filippo Corridoni con il romanzo Donna fugata di Costanza di Quattro filosofa, scrittrice ed autrice tateale è stata anche collaboratrice del quotidiano Il Foglio ha assunto la direzione artistica del teatro Donna fugata di Ragusa in collaborazione con prestigiosi teatri nazionali e compagnie teatrali di fama proprietaria della casa di Montalbano a Punta Secca ha scritto il fortunato libro La mia casa di Montalbano Donna fugata è un romanzo storico che ha per protagonista il più antico casato di Ragusa Ibla un viaggio nella storia e nelle bellezze architettoniche del barocco siciliano la prefazione è stata scritta da Giuseppina Terregrossa e invece dialogherà con l'autrice Pasqualino Mattaroccia continuano invece gli eventi la Madonna del Paradiso si troverà dal 7 luglio in cattedrale nella cattedrale della nostra città a causa delle restrizioni sanitarie non ci sarà la storica processione della Madonna del Paradiso ma l'effigie verrà portata in forma privata all'interno della Basilica dove rimarrà dal 7 all'11 luglio all'interno del programma le sante messe dal 7 fino all'11 luglio alle ore 19 e alle ore 9 del mattino mentre vi segnaliamo venerdì 9 luglio un concerto di organo alle ore 21 in onore appunto della effigie della Madonna del Paradiso domenica 11 luglio e domenica 18 luglio invece alle ore 20 vi sarà la concelebrazione eucaristica preseduta dal nostro vescovo Domenico Mogavero e chiudiamo invece con lo sport le atlete Fiorentino Aurora Gancitano Ginevra e Modica Carlotta della ASD le Farfalle di Mazzara dal 4 al 9 luglio saranno presenti al primo collegiale nazionale della Federazione Italiana del Twirling presso il centro sportivo di Cantalupa grande orgoglio e opportunità di crescita delle atlete mazzaresi e questo è tutto vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG8 informazione sul canale 190 di Tele8 e vi ricordiamo che ci potete seguire sui nostri canali social tele8.it e pagina Facebook grazie a tutti